Ciao amici di Piano Solo, in questa lezione vediamo i principali giri armonici, partendo da quello di Do a tutte le sue varianti. Vediamo subito. Allora, ho fatto qui questo schemino per voi, spero si capisca. Allora, il giro principale, il primo è Do, La minore, Re minore, Sol settima. Quindi, Do, La minore, Re minore, Sol settima, ovvero Do, Mi, Sol, La, Do, Mi, Re, Fa, La, Sol, Si, Re, Fa. E continua questo giro. Potrebbe continuare all'infinito. Vediamo il secondo giro. Il secondo è Do, Sol, La minore, Fa. Do, Sol, La minore, Fa. Do, Sol, La minore, Fa. È un giro molto utilizzato questo. Sono sempre le varianti del stesso giro armonico con accordi invertiti. Vediamo il terzo. La minore, Fa, Sol, La minore. Questo è il giro utilizzato da Enaudi. La minore, fa, Sol, La minore, Fa, Sol, La minore, eccetera. Andiamo sul quarto. Quarto giro. La minore, Re minore, Sol, Do settima, Più. Questo qui è il giro di, e penso a te, di Battisti. La, Do, Mi, Fa, La. Sol, Si, Re, Fa. Do, Mi, Sol, Si. Do settima, Più. Se fosse Do settima e solo sarebbe Do, Mi, Sol, Si, bemoglio, ma c'è il Più. Quindi l'ultima nota sali di un semitono. Do, Mi, Sol, Si. Poi, quinto giro, La minore, Re minore, Sol, Mi minore. Questo qui è una variante del giro precedente. Quindi, La minore, Re minore rivoltato, Sol settima, Mi minore. E incomincia. La, Do, Mi, La, Re, Fa, Sol, Si, Re, Fa, Sol, Si, Mi. Andiamo sul sesto giro. Do, Fa, Sol, Do. Do, Fa, Sol, Do. Sono tutti accordi maggiori, quindi avrà una caratteristica maggiore. e rincomincia. Do, Mi, Sol, Fa, La, Do, Sol, Si, Re, Do, Mi, Sol, eccetera. Andiamo avanti sul settimo. La minore, Fa, Do, Sol. La minore, Fa, Do, Sol. Questo qui è il giro di River Flow in U di Roma oppure Back to Life. Ovviamente, questo è stato trasportato in Do maggiore, mentre in quei pezzi lì è Fa diesis, Re, La, Mi. Non è la stessa cosa. Cioè, è proprio la stessa cosa ma trasportato in Do maggiore. Questo qui, questo giro è veramente fantastico. Ottavo giro, Do, Re minore, Sol. Semplicissimo. Do maggiore, Do, Mi, Sol. Re minore, Re, Fa, La, Sol. E riparte. Adesso vediamo dei brevi esempi su ognuno di questi giri armonici. Il primo, Do, La minore, Re minore, Sol, settima. Secondo, Do, Sol, La minore, Fa. Che non è altro che la canzone di Scampo che ha vinto a Sanremo. Terzo giro armonico. In Audi. Quarto giro, La, Re minore, Sol, Do, settima. E pensate di Battisti. Quinto giro è quello con la modifica che rende leggermente più cupo il brano. Eccetera. Sesto, Do, Fa, Sol, Do. E' un giro veramente molto allegro. Settimo, La minore, Fa, To, Sol. Abbiamo detto che è quello di Back to Life. Ovviamente trasportato. Eccetera. E ultimo giro, Do maggiore, Re minore, Sol. Do maggiore, Re minore, Fa. Eccetera. Questi sono i principali giri armonici che si possono sviluppare su una determinata tonalità.